Vorrei correggere una cifra che ha dato prima Fedriga, l'anno scorso per l'accoglienza è stato speso un miliardo di euro, cioè esattamente la stessa cifra che è stata spesa nel 2011 quando al governo c'era la Lega e quando gli sbarchi furono un terzo, primo dato. Secondo dato, io sono d'accordo, non è così, poi ti faccio vedere il bilancio. L'avete scritto voi in Europa per chiedere la flessibilità a 3,3 miliardi, cosa stai dicendo? No, non è così, dai. Ha scritto il governo? Ma non è che è visto il punto. È così. Ma lo sai anche tu, ha chiesto 2 miliardi di flessibilità per una spesa di 3,3 miliardi. In questa condizione vi faccio vedere questo dato e vi spiego perché la flessibilità che è richiesta non per coprire le spese sostenute sulla migrazione, ma perché deve esserci, diciamo così, uno 0,2. Tu hai detto che sono stato speso 3 miliardi di euro. No, ti ho detto che avete sostenuto in Europa, che avete speso 3,3 miliardi di euro per l'immigrazione e che avete 2 miliardi di flessibilità. Non abbiamo speso 3 miliardi di flessibilità. Non abbiamo speso 3 miliardi di flessibilità. La clausola migranti non significa coprire le spese che abbiamo avuto, anche perché quelle spesso sono fuori bilancio, alcuni sono fondi europei. Di che parli? 16 ottobre 2015, Padoan, 3,3 miliardi di euro spesi per l'immigrazione e l'accoglienza, di cui 3 miliardi di spesa corrente, il 50% delle spese riguarda il capitolo di ricezione, mentre tra il 20 e il 30% il salvataggio in mare. Allora, questo è il ministro del vostro governo, dice che si sperano 3,3 miliardi, l'ha detto, dichiarato da Padoan, e adesso che un sottosegretario di questo governo venga a dire che non è vero, posso dire... L'accoglienza... Che dibattito è da fare? Che dibattito è da fare? No, l'accoglienza... Non raccontate balle, avete imparato da l'entri, finito, queste sono le dichiarazioni di Padoan, sono le dichiarazioni di Padoan, basta.